Riccardo, ci aspettavamo di vederti in campo contro la Lazio invece? Invece sono rientrato per quelli che erano i tempi, abbiamo sfruttato la sosta per rientrare col gruppo, Nassolo ho rientrato e spetterà l'allenatore come sempre decidere se sarò della gara oppure se ci sarà bisogno più avanti. È un rientro anticipato anche per i problemi che alberi sull'esterno, l'infortunio di Rivas, se l'impenning con la nazionale di Alvarez e la scarsa forma comunque ancora di Pedro Camatà. Beh sì, qualche problemino stasettimana per via delle nazionali c'è stato, poi c'è l'infortunio di Manuel che nelle ultime ore si è fermato, quindi vediamo, sono tornato a disposizione, come ho detto prima, adesso dipenderà dall'allenatore, ci sono tanti giocatori sulla fascia che possono giocare, quindi ora stiamo alla direttiva allenatore e poi vedremo. Ti stai convincendo di poter ben figurare nel nuovo ruolo che ti sta cucendo Mr. Ventura? Mi sto convincendo di poter dare sempre il massimo, quello sì, poi se la squadra gira ovviamente trago beneficio anch'io, però cerco di fare quello che mi dice, so che per caratteristiche sono molto diverso da un esterno, quindi ovviamente mi si chiede e faccio cose diverse, perciò vediamo un po' quali saranno le direttive. Kivo Bari, sentendo Ventura, qualche tuo compagno sembra una trasferta particolarmente temuta? Sì, trasferta difficile perché è un'ottima squadra che gioca quasi a memoria, perché è un paio di anni che giocano assieme anche gli stessi giocatori, perciò dovremmo stare attenti, tanto quanto dovranno stare attenti loro. Dopo aver sfiorato le vittorie contro Inter, Milan e Palermo, scommetteresti su un 2 del Bari a Verona? Assolutamente sì, quindi sono di parte, lo spero, e sicuramente ci metterò il massimo come ce lo metteranno i miei compagni. C'è un problema del gol, 299 minuti senza Rieti, come hai visto in settimane i vari Barrieto, Meggiorini e Kutusov? Li ho visti bene e motivati come sempre, non abbiamo segnato le ultime partite, ma abbiamo creato tanto, quindi comunque questa è la cosa più importante, poi spero capiti un'altra botta di fortuna come è capitata a me, magari anche a qualche mio compagno, quindi l'importante è quello. Questo era Allegretto, abbiamo un amico in linea, però vorrei chiedere alla regia di mostrare le fotografie che ha portato Gianni Antonucci, velocemente, un amico in linea, pronto? Ciao Antonio, ciao. Ciao Antonio, ciao. Ciao, saluto l'ospite. Io volevo ritornare all'argomento di Lippi per Cassano, io ho ricevuto un sms di Zoff, di Nozoff, grande portiere della Nazionale. Che ha parlato di arroganza da parte di Lippi. Sì, ha parlato di arroganza, anche di maleducazione, perché è un mister che sta al capo di una Nazionale. Velocemente, velocemente il concetto, che è tardissimo. Il concetto volevo dire che è stata una persona maledillata che deve avere educazione con il pubblico. Viva Zoff, Zoff ci piace di più. Va bene. Poi ti piace di più Zoff, a riguardo col Chievo, dicevo solo una cosa, la formazione da poter portare avanti, quella con Barretto avanti, con Kutuzoff, al massimo l'alternativa laterale sull'angella. Va bene. E spero che andrebbe bene. Ciao. Grazie, grazie. Potete riproporre quelle fotografie? Perché ci hai portato queste foto, Gianni? Velocemente. Perché abbiamo due ex, una per parte, l'angella a sinistra che è un ex del Chievo, tant'è vera che ha la maglia del Chievo. E a destra, Marcolini che è un ex del Vario. Non vorrei sbagliarmi, Gianni, ma Allegretti ha giocato col Chievo? Allegretti? No, no, no. Forse sì. Non mi parli di no, 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 no. Ricordo una sorta passata. Perché è Di Vaio che fece il secondo gol del 2-0 del primo tempo nel 1997 e poi questo è Carrere che fece il primo gol, questi sono tutti e due sul campo del Chievo. Ma io qua devo tirare le orecchie a Cristian Siciliano perché noi abbiamo le immagini di queste partite. Va bene, la prossima volta ve le proponiamo. L'arbitro Candussio? Candussio, questo è un arbitro fra i più giovani d'Italia. E' del 1977, è nato, quindi ha 32 anni. Ed è venuto a Bari soltanto una volta, cioè col Bari ha arbitrato soltanto una partita. L'anno scorso Bari-Salernitana 1-0, Barreto al 29esimo. E lui fu uno dei migliori in campo, tant'è vero che tutti i giornali li ha meso dal 7 al 7 e mezzo a quest'arbitro che è Friulano. Friulano, va bene. Siamo ai saluti, ricordo ancora una volta, domenica quando sta finendo la partita, appena finisce, sintonizzatevi su Radio Bari 88.8. Tutto il dopo partita in diretta con la conferenza stampa di vettura, le voci dei protagonisti. Anche quando si è giocato fuori casa? Sempre, in casa e fuori casa. In casa e fuori casa, sempre. Quindi mi raccomando, è un appuntamento da non perdere. Potrete intervenire in diretta, dare i vostri commenti sulla partita. Insomma, un dopo partita fatto a regola d'arte. Grazie al professor Gianni Antonucci, stasera veniamo a celebrare il premio a tuo figlio Michele. Noi ci troviamo lunedì mattina con B&G, poi il bianco e il rosso, ma mi raccomando... Bella manifestazione quella di stasera, bellissima manifestazione. Abbiamo avuto Mimo Marzullo ieri. Ciao! Ciao!